benvenuti in questa guida top 7 condizionatore 18000 btu di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che cinque valide alternative ma partiamo subito al settimo posto troviamo max alis led display gas refrigerante r32 classe efficienza energetica più più a più 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 pot assorbita 1,3 kilowatt porta vediamo la nostra valutazione nella qualità generale assegniamo 5 stelle proposto a super sconto con una straordinaria funzionalità in definitiva è davvero buono il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 73 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo climatizzatore condizionatore gas refrigerante ecologico r-32 garanzia lg 10 anni riscaldamento raffrescamento e deumidificatore con pompa di calore comando a filo inclusivo ecco cosa pensiamo la qualità generale raggiunge 4 stelle ottimo momento per acquistare nelle caratteristiche raggiunge 5 stelle sopra la media il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 75 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo condizionatore climatizzatore 19 decibel a regolazione auto flusso aria super cooling if il funzione slip smart condizionatore climatizzatore isense easy smart da 18 vediamo la nostra valutazione 3 stelle nella qualità generale interessante l'offerta con particolari caratteristiche diamo 4 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 85 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare climatizzatore condizionatore gas refrigerante ecologico r-32 riscaldamento raffrescamento e deumidificatore con pompa di calore comando incluso tecnologia inverter vediamo il nostro parere qualità generale davvero eccezionale valutiamo l'offerta 3 stelle con caratteristiche ottime con un rapporto qualità prezzo molto alto il nostro punteggio generale è di 85 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo condizionatore ilunga cl unita interna 18.000 btu ideale per ambienti da 50 a 60 metri quadrati con altezza media di 2,7 metri il condizionato vediamo la nostra opinione una soddisfacente qualità generale proposto a super sconto nelle caratteristiche raggiunge 5 stelle in definitiva accettabile il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 90 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo condizionatore climatizzatore riscaldamento in pompa di calore raffrescamento deumidificatore classe a più più a più garanzia 10 anni sul compressore condizionatore climatizzatore ecco la nostra valutazione 3 stelle nella qualità generale 5 stelle per la promo sconto con una soddisfacente funzionalità con un rapporto qualità prezzo molto alto il nostro punteggio generale è di 92 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica climatizzatore condizionatore climatizzatore condizionatore isense easy smart 18000 btu a più più r 32k 50 xs 1 ag ecco il nostro parere un eccezionale qualità generale nell'offerta assegniamo 4 stelle con una soddisfacente funzionalità risulta tra i top nel rapporto qualità prezzo il punteggio è di 97 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale